Civita vecchia! Oggi non scenderemo, ci poseremo la nave. Ragazzi guardate come lavano le navi. Se non mi faccio il bagno, aiuta! Stanno lavando i vetri della nave vetro per vetro. Lo sciacquano e poi lo asciugano. Mamma mia! Avete capito quant'è sta nave per lavare tutti i vetri che si vuole? Non mi invidio per niente poveraccio. Ragazzi stiamo entrando nella jacuzzi che affaccia proprio sul mare. Guardate che spettacolo! Andiamo! 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 Grazie a tutti Siamo partiti da Civitavecchia per ritornare a casa, purtroppo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti